Evidenziando profondo senso del dovere, qualificata professionalità e non comune determinazione fornivano determinante apporto a una complessa indagine che consentiva di definire gli assetti e le attività illecite messe in atto da una pericolosa cosca locale. Questa la motivazione con cui ieri nel corso della cerimonia della festa dell'arma tenutasi al comando provinciale di Catania sono stati conferiti gli encomi ai marescialli Alessandro Calabretta, Sebastiano Curcuruto, Diego Furnari e Salvatore Lizio e dal brigadiere capo Massimo Caputo, tutti e cinque in forza al nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Giarre. Il riferimento è all'operazione Gota con cui sono finiti in manette Salvatore Brunetto, Pietro Carmelo Olivieri, Alfio Patanè, Rosario Russo, quest'ultimo poi assolto, Benedetto Lamotte e Giovanni Calì, tutti accusati di associazione mafiosa poiché presunti affiliati al clan Brunetto. Denunciate anche 17 persone. Le indagini avevano preso il via all'indomani del brutale assassino di Salvatore Vadalà, il 22enne di Fiume Freddo di Sicilia, scomparso nel novembre del 2008 e ritrovato 11 giorni dopo senza vita, sepolto sotto 50 centimetri di terra in un agrumeto di Mascali. Fin da subito i sospetti degli investigatori erano caduti su alcuni affiliati al clan Brunetto ma dalle indagini non erano emersi elementi probatori sufficienti a dimostrarne la colpevolezza. Quattro anni dopo l'attenzione degli inquirenti torna sui membri dello stesso clan con le indagini sulla scomparsa nel giugno del 2012 del pregiudicato gerrese Giorgio Curatolo, ritenuto dall'accusa vicina alla Cosca Brunetto e probabile vittima di Lupara Bianca.